Il mio nome è Oliver Queen. Dopo cinque anni su un'isola infernale, sono tornato con un solo obiettivo. Salvare la mia città. Per farlo non posso più essere un assassino. Per onorare la memoria del mio amico Tommy, devo diventare qualcun altro. Devo diventare qualcos'altro. Nelle puntate precedenti... C'è una persona che stiamo seguendo. Lo abbiamo soprannominato. Deathstroke. Ho una proposta per voi, amici. La Roya hanno iniettato il siero. È ancora vita. Ma dobbiamo tenerlo d'occhio. Stai lontano da te. Non posso. Non è al sicuro quando è con te. Tu la ami, lo so. Per questo farai quello che ti ho chiesto. Come hai potuto non dirmi che Malcolm Merlin era mio padre? Io mi fidavo solo di te. Da circa trenta minuti, la tua società appartiene a me. Slade, tu lavori per lui. Conosco il suo segreto. Oliver Queen è a Roi. I buchi per gli occhi non sono precisi. Solamente io ho questo problema. Non essere nervosa. E come faccio? Questa roba grossa, anche per noi che siamo esperti di roba grossa. Slade non ci ha lasciato scelta. Lo so, ma il nostro piano non è dei migliori. Felicity, sei stata tu a proporlo. Non credevo l'avresti considerato. Ci siamo. Quell'uomo lavorava per me. Ora lavora per il tuo nemico. Telecamere spente. Vi ricordate il passepartout? Un omaggio di Tocman, il re degli orologi, apre tutte le serrature. Inclusa queste. Qui abbiamo conosciuto Barry. Queste sono pronte per l'uso. Mettetele nei punti stabiliti. Il C4 farà il suo dovere. Non facciamo esplodere qualcosa da parecchio. Rapidi e indolore. Sto piazzando una bomba. Chi l'avrebbe mai detto? Chissà se lo posso aggiungere al mio curriculum. Fermo! Dobbiamo andare. Non c'è più nessuno all'interno.